Poi è arrivato... Mi ricordo, donna Anna, che cos'è sta bambola? Che brava donna vostra amata, signorina. Che avete? Che avete? Tu non mi mochia era una maestra a accusare. Era, se fosse caso, mi sicuro che ci metteva due minuti a sistemarla. Ma prima, se fossi stata a cà, se avessi mangiato tutte queste valcocchi cate in terra. Perché sono una cosa che ci piaceva essere al mondo. Tu, rispondi. Che è? Ti ha tagliato la lingua? Si chiama Maria come voi. Io mi pago per tagliare. A me non mi fanno niente se c'è cavolo, se c'è ciove, se è benedì o puro. Ma Firo. Però se me la runa ce la porto al mio bucchiere, che quando ve la riparo ve la riporto. Dobbiamo quel che non avevo già che mi vuole fottere. Io mi ammazzo. Sempre se si dirà essere mio. Po è la riporto. Po è la riporto. Grazie a tutti